Notizia shock Filippo Turetta si sarebbe ucciso. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi, in una drammatica svolta degli eventi, Giulia Cecchettin è stata ritrovata senza vita sulle sponde del lago di Barchis. Le ricerche si erano concentrate proprio in questa zona nelle ultime ore, poiché l'ultimo avvistamento dell'auto di Filippo Turetta, nella provincia di Pordenone, aveva fatto supporre che questa località potesse essere parte del suo percorso. Adesso, le autorità procederanno con i prelievi ematici e di tessuto sul corpo di Giulia per estrarre il profilo genetico e confrontarlo con quello dei suoi familiari. Anche se non vogliamo pensare al peggio, sembra quasi certo che il corpo ritrovato sia quello della giovane di 22 anni. Inoltre, nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, è stata scoperta una Fiat Grande Punto Nera, simile all'auto di Filippo Turetta. Questo momento è di grande tensione e dolore per la famiglia di Giulia. Le parole del cugino Giovanni, riportate dall'Agenzia Stampa la Pressa, esprimono rabbia e disperazione, non c'è più niente da dire. Filippo ha fatto fuori mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già tolto la vita. Attualmente, non abbiamo alcuna notizia di Filippo Turetta, e una delle possibilità che vengono prese in considerazione è che possa aver compiuto un gesto estremo. Questa è una situazione molto difficile da affrontare, e ci uniamo al dolore della famiglia di Giulia in questo momento difficile. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.